Paradiso delle Signore 6 anticipazioni. Andiamo a vedere la seconda parte degli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 febbraio 2022. Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore conosceremo un nuovo personaggio. Si tratta di Ferdinando, interpretato da Fabio Fulco. È un armatore e sarà portato al circolo da Fiorenza Gramini. Anche Dante però lo conosce di nome. È un uomo molto importante e Fiorenza e Romagnoli vorrebbero concludere affari con lui. Il nuovo personaggio farà la conoscenza dei soci del circolo e ovviamente della vicepresidentessa. Rimarrà molto colpito da Ludovica in quanto gli ricorda una persona del suo passato. Per la gioia di Marcello ci sarà qualcuno che corteggerà la sua ragazza. L'unica che potrebbe essere contenta del nuovo corteggiatore di Ludovica sarà mamma Flavia. Dante, ora che l'affare con gli americani e il Paradiso è sfumato, propone un nuovo affare a Ferdinando. Nell'affare è presente anche la cugina Fiorenza. L'uomo sembra ben disposto ad ascoltare i due soci del circolo, ma pone una condizione. Nell'affare dovrà essere presente anche Ludovica Brancia di Montalto.